Pronto? Sì. Hai avuto il mio biglietto? No, 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 Rachele. Quello che devi assolutamente fare è metterti in salvo con i ragazzi. Devi passare subito il confine con i ragazzi e questa è la cosa più importante. Rachele, senti? Certo! Sì. Ho deciso, io seguo il mio destino. Tu sei la sola donna della mia vita che abbia amato. Addio, Rachele. Da dove chiamava la mia moglie? Da Villa Montero. È distante da qui? Circa un chilometro. Comunicate alla signora Petacci di restare in albergo. Sì, certo. Grazie. Grazie. Grazie.